Grazie, Presidente. Io spero di riuscire a portare un contributo ulteriore a questa discussione analizzando l'articolo 4 di questo Decreto Mille Proroghe, che riguarda nello specifico la missione militare Strade Sicure e, in particolare, quelli che erano destinati di queste forze alla cosiddetta terra dei fuochi. Probabilmente farò un discorso più per addetti ai lavori che per, diciamo, di ampia diffusione, però mi interessa precisare una cosa su questo articolo 4, che è molto interessante ed è un paradosso legislativo. L'attuale decreto che stiamo discutendo ha un articolo, il numero 4, che è, per annuncio del Ministro dell'Interno, modificato da un altro decreto, il cosiddetto antiterrorismo, di cui nessuna persona ufficialmente conosce il testo. Lei capisce, Presidente, che in questo momento ci troviamo a discutere un decreto, e nello specifico un articolo del decreto, e ci troveremo a votare questo articolo pur sapendo, per annuncio del Ministro competente, che non è più questo. Cioè, noi cosa stiamo votando in questo momento? Stiamo discutendo e ci state chiedendo di votare su cosa, se l'articolo 4 è modificato da un decreto che verrà dopo? Allora, se questo decreto fosse stato convertito dalle Camere, allora noi avremo un punto fisso. In gazzetta ufficiale esce la legge di conversione del decreto e allora ci ritroveremo con un articolo 4 che poi dopo verrebbe modificato da un altro decreto. Ma la verità è che questo è un atto di fede, più che chiedere la fiducia. Chiedete fede a questo Parlamento e chiedete alla Camera un atto di fede, perché solo di questo si può trattare. Io già ritengo, e su questo ho depositato anche un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non si è mai degnata di rispondere, che sia veramente indegno che ormai si facciano le conferenze stampa e non si legge il testo del decreto, nonostante passino giorni e giorni. A volte si è letto il testo del decreto annunciato in conferenza stampa anche dopo dieci giorni, anche dopo dieci giorni, cioè quando i riflettori si erano già spenti, i titoli di giornale si erano già riempiti e nessun giornalista e nessun parlamentare ha mai potuto fare la verifica che quello che aveva detto il Ministro o il Presidente del Consiglio corrispondesse a quello che stava all'interno del testo di legge. Già è indegno questo. A maggior ragione è indegno se questi giochi si fanno sulla pelle dei cittadini della terra dei fuochi, perché di questo stiamo parlando qui. Qui stiamo parlando del fatto che la legge di stabilità aveva stanziato dieci milioni di euro per la missione nella terra dei fuochi. E a un certo punto si dice che 9,7 di questi si potranno usare per una missione ben più ampia a livello nazionale in vista delle spocche. In politichese significa che quei camioncini cominciano a camminare da Napoli, dalla Campania, verso Milano e con tutti i soldi che erano stati stanziati. Ora, io dopo aver sollevato la questione ho ricevuto una risposta a mezzo conferenza stampa dal Ministro Alfano, che ha detto che abbiamo risolto. Io non voglio assolutamente parlare della credibilità dell'attuale Ministro dell'Interno, voglio soltanto dire che non mi fido e vorrei vedere le carte. A maggior ragione se io devo votare questo decreto, che è quello modificato dal decreto annunciato, perché se dovesse verificarsi l'ipotesi, come si è già verificata nel Mille Proroghe, che nell'antiterrorismo risulta confermato lo scippo di oltre 9 milioni di euro ai cittadini di quella terra, nonostante nel decreto terra dei fuochi era previsto che si stanziassero 6 milioni di euro al corpo forestale dello Stato e non sono stati ancora dati, e nella legge di stabilità sono scomparsi. I 56 milioni di euro dati alla Regione Campania, 24 vengono utilizzati per attività di pubblicità, 4 milioni di euro per le squadre di calcio e 500 mila euro a Gigi D'Alessio per la terra dei fuochi. Allora voi capirete che come minimo dobbiamo essere un po' arrabbiati. L'attuale isteria del Governo nel fare le norme porterà allo sfascio questo Paese. Ormai siete diventati un Governo che non fa più leggi, fa solo conferenze stampa e le leggi, i decreti legge e i testi di legge ce li fate leggere dieci giorni dopo in modo da non poter contestare quello che avete detto in conferenza stampa. È ormai uno schema noto di cui i cittadini si stanno accorgendo. Grazie.